Buonasera ragazzi, prima di uscire vorrei andare a vedere la mia amata Lazio che sta giocando già e vi auguro una buona serata e adesso parlo di Lazio ma domani a qualsiasi momento parlerò anche del calcio Cassammarino sia calcio che Fulsa. Per adesso il video lo faccio così corto domani approfonderemo di più e poi adesso vi dico ho visto molte persone che si sono iscritte al mio canale e vi ringrazio tutti e ci vediamo domani. Un saluto e buona vita a tutti.